Si sono dati appuntamento a San Zeno di Montagna, presso la casa Leopoldina Nodè dell'Istituto Sorelle della Sacra Famiglia, per due giorni di ritiro e condivisione i sacerdoti ordinati nel 1961 a Verona, a 60 anni esatti dall'ordinazione. Non tutti erano presenti, qualcuno è già in cielo, altri erano assenti per motivi di salute. È stato comunque un momento speciale di preghiera e fraternità, per fare memoria di un dono grande come la chiamata di Dio e il sacerdozio vissuto per i fratelli. Li abbiamo incontrati per fare memoria e attingere dalla loro esperienza, vissuta nei tanti incarichi svolti lungo gli anni. Ne ho avuti parecchi e ho girato l'Italia, perché appena ho ordinato, sono stato due anni un piccolo seminario qua a Verona e poi sono andato a Parma, Battipaglia, Salerno, poi sono tornato a Roma, poi sono andato a Parma, sono andato a Pavia, quindi ho fatto educatore di seminario, educatore nei collegi, è un collegio di orfani e nauri in quei tempi, curato in parrocchie, quindi con la catechesi, catechisti e tutto il resto, viceparroco parecchi anni a Roma e poi parroco a Pavia da 12 anni. Adesso sono qui a Verona da parecchi anni ormai, pensavo di andare in pensione e invece sono ancora qui. È in un posto spettacolare e santo, il santuario Madonna di Lourdes, che esperienza è questa? È un'esperienza che fa molto pensare, soprattutto dal lato spirituale, che quando o meno te l'aspetti, tu vedi come, io dico la Madonna agisce, soprattutto nel tempo della pandemia, no? Nonostante tutto, c'è sempre stato un movimento di persone, anche persone non conosciute. Ho visto ultimamente famiglie coi figli che vengono, pregano, domandano di confessarsi. Mi è rimasto impresso, sarà un mese fa, circa, un signore, stavo per chiudere la chiesa la sera e mi confesso e ci dico, prego, scommati qua, si è sfogato, aveva dei problemi, poi mi ha abbracciato alla fine, toglie piangendo, sono rimasto, sono cose che dici, signore la mora. Tornando alle origini della vocazione, perché proprio sti mattino? Non lo so neanche io, dunque io andavo a scuola a San Pietro di Lavagno, c'erano, quindi elementare, dei carici sti mattini che venivano, non so, farché San Pietro, forse un po' di catechismo, credo, e durante l'intervallo della scuola, uno mi si è avvicinato e mi ha detto, ma ti piacerebbe studiare? Ecco, sì, ma siamo poveri, non lo so, dimmi, vieni, parlo io che sono i genitori, è cominciata l'avventura, poi il signore lavora. Cosa ricorda con particolare gioia l'attaccamento di tutti questi anni? Io ho avuto sempre, nonostante le debolezze nostre, le mie debolezze, nonostante i difetti, i limiti che abbiamo, il signore lavora tanto e tanto bene, credo alla gente che mi vuole bene e quello penso che sia importante, perché vuol dire che è un segno. 60 anni fa e oggi il mondo è un po' cambiato, cosa vede di diverso anche rispetto alla fede? Vedo di diverso la gioventù, per esempio, ho fatto un esempio, sabato mattina hanno fatto l'insantuario, si chiama festival biblico e ha letto alcune testimonianze di detenuti che poi che avevano trovato nell'archivio di Verona della Curia, un signor signorato il quale teneva le lettere che gli davano da portare ai genitori. Lui le trascriveva e le teneva lì. Ne ha lette parecchie. Sentite i giovani di 18-20 anni che pregano la Madonna, ultimo giorno di vita che ho, signore ti ringrazio, perdono a chi mi fa del male e pregate per i miei genitori, pregate per me. Sono rimasto veramente commosso, commosso e ho pensato a gioventù di oggi. A che livello siamo? Generalmente poi le eccezioni ci sono sempre. Questo lo vedo molto cambiato, ma anche i ragazzi stessi. Io ho fatto scuola fin quest'anno, quindi ho cambiato. Il cellulare, non c'è più rapporti. Il rapporto è fatto con questo qui e non tra le persone. Un messaggio finale che vuole lasciare alle persone con questi anni di ricchezza alle spalle? Di avere sempre fiducia nel Signore, prima di tutto, che ti chiama. E se ti ha chiamato ti dà quello che ti serve. E in se stessi anche. Che non tirarsi indietro. Io sono convinto. Letale c'è. A volte mi dico, eh, non vai in pensione. No, perché sono prete, ma almeno non va mai in pensione. E prete per la gente e prete per sempre, finché vive. Allora io ho fatto nove mesi di curato a San Giovanni Lupatotto. Ho fatto circa vent'anni in seminario, tra seminario minore e maggiore. Ho fatto un breve, un periodo di segretario di ministro Carraro. Ho fatto tredici anni di assistente dell'azione cattolica. Prima della CR poi assistente diocesano. Dieci anni parroco a Cadidavid. Diciotto anni parroco a San signore di Don Bernardo Antonini. Quindi è tutto pieno. Quindi il tempo, gli ultimi anni sono stati occupati. Però vado a fare servizio sabato e domenica a Palazzolo durante la settimana al mio paese a San Massimo. Cosa ricorda con particolare gioia e profondità? Naturalmente una vita lunga vissuta con il Signore. Cosa ci vuole raccontare in questi minuti? Con particolare gioia, anche se come dire con un certo senso di commozione, l'esperienza che ho fatto all'ospedale di Negrar nell'assistenza a Monsignor Giuseppe Carraro. L'ultimo mese praticamente l'ho vissuto all'ospedale di Negrar in assistenza, no? E vi ricordo con gioia quando celebravamo la Messa nella sua stanza, lui era a letto, no? Al momento della comunione era difficile togliergli il calice dalle mani. mani. Un segno del suo innamoramento dell'Eucaristia. E se vuoi ancora da questo punto di vista, una cosa particolare. Gli ultimi giorni non aveva praticamente più la parola. E voleva incontrare tre preti. Dalla mattina continuava a far capire che volevo incontrarli. Sono venuti nel pomeriggio, ma non parlava più. Parlava soltanto gesti con la mano. Per grazia di Dio, non lo so perché, a me è capitato di interpretare i gesti della mano. Lui faceva i gesti, io traducevo. Non mi fermava mai. Se qualcuno, non lo so, interveniva, diceva che non era quello il suo pensiero. Quindi quello mi è rimasto dentro, no? Questa interpretazione delle mani, l'unità, la comunione, no? Tutti i gesti che io traducevo. Questo è stato, dico, che mi è incancellabile nella memoria. Mi fermo soltanto lì, per altri episodi nella vita ce ne sono in infinità. Ha accenato recentemente questo suo impegno anche per il processo di beatificazione di Don Bernardo Antonini. Cosa significa questo impegno per riportare alla luce anche questa figura, per farla conoscere tutta la chiesa? Parto da uno dei consultori della congregazione, dopo che avevano esaminato, no? Lui mi ha detto, io ho scoperto Don Bernardo dalla posizione, no? Io devo dire che di Don Bernardo avevo un'immagine positiva, con i suoi limiti, ma avendo avuto tra mano tutta quella documentazione, devo dire che l'ho scoperto nuovo, no? Non diverso, più pieno di quello che era la sensazione precedente, ecco. Ma basta pensare, per esempio, anche al discorso delle omelie che erano sempre scritte, no? Si parte da quando era diacono, per tutto il periodo che è stato a Verona, con i testi tra mano e poi una infinità di lettere. Ma ho dato la possibilità di scoprirlo. E così non ho avuto senso di aver tempo inutile, perché ho occupato tutte queste faccende continuamente fino alla sua venerabilità, ecco. Cosa significa per lei aver speso per il Signore, con il Signore, così tanti anni, a servizio del suo popolo? Dunque, è chiaro che, diventando prete, sapevo che ero a servizio del Signore e della Chiesa, no? Questo richiamo ogni tanto bisogna farcelo, altrimenti si corre il rischio di credere di essere l'attore primo, invece l'attore primo è lui. Allora, che cosa mi ha aiutato in questo? Dico la verità, il discorso della preghiera è il discorso dell'Eucaristia, no? In un certo senso, la fedeltà alla preghiera purtroppo a volte è solo materiale perché la testa va dove vuole, e l'Eucaristia, l'Eucaristia ci ho sempre tenuto, non ho mai capito perché qualche volta dicono ma cosa serve farla tutti i giorni se non c'è nessuno? No, è un incontro diretto con lui per dire sono con te, sono al tuo servizio e per sentirmi dire guarda che lavori per me. Quanto è importante anche il vostro gruppo di compagni di messa, questo ritrovarsi costantemente, confrontarsi e crescere ancora insieme? Io ho portato qua, se l'avevo su un faldone così grande, dove raccolgo tutti gli inviti al nostro gruppo per trovarci insieme, no? Qualcuno è meravigliato perché li abbia tutti, è così. Nell'andare degli anni poi sono aumentati, anche perché ormai siamo tutti fuori di impegni precisi, no? Quindi ci teniamo a incontrarci per amicizia, per un momento di preghiera, per il gusto di sentirci fratelli, di condividere, come dire, le preoccupazioni, così ieri per esempio abbiamo fatto, ciascuno ha detto, la propria situazione spirituale, fisica, di malattia, così di impegno e come sta vivendo, insomma. Quindi è per crescere nel rapporto di comunione. Eravamo 16, siamo rimasti in 9, due purtroppo non sono in situazione adesso di poter partecipare, ma chi è venuto ha goduto dell'esperienza, ecco. Don Pietro, quali i suoi principali incarichi nella vita da sacerdozio? Tutti? Beh, dai, ho cominciato a fare il curato a Cadi David dal 61 al 62, in Duomo dal 62 al 66, seminario minore di San Massimo dal 66 al 77, coparroco, diciamo, a San Massimo dal 77 all'80, parroco di San Luca dall'80 al 93, direttore dell'Istituto Giberti di Verona per la formazione del clero e dei preti giovani dal 93 al 95. dal 95 al 2004 parroco di Caprino, dal 2004 al 2010 parroco di San Pio X, dal 2010 aprile, marzo scusa, fino al 2020 su al santuario Madonna della Corona. E poi c'è stata la pandemia mia, personale. In questi giorni di ritrovo e di riflessione, in questo anniversario importante, cosa c'è nel suo cuore? Cosa sta pensando? Beh, anzitutto un grazie al Signore per tutto quello che mi ha dato, perché la vocazione, come ho accennato prima, ha 19 anni, 18 anni, perché sono stato in seminario dopo il diploma di geometra. E quindi devo solo ringraziare il Signore per la vocazione e per tutte le esperienze che, come ho accennato, mi ha dato da fare, perché ho insegnato educazione artistica, sono geometra, sono maestro d'arte e quindi ho dovuto fare tantissime esperienze alle quali mi sono non solo adattato direi, ma ho cercato di viverle con impegno, con l'insegnamento, con professionalità anche e soprattutto perché bisognava insegnare seriamente anche ai seminaristi. E c'è qualcosa che ricordo con particolare attaccamento? Beh, certamente l'insegnamento dell'educazione artistica per 29 anni è stata un'esperienza che mi ha accompagnato per parecchi anni della vita e anche mi piaceva, infatti ho dipinto parecchio, ho dipinto parecchio, ho lasciato i miei quadri sulla corona, pochi li ho dati ai miei parenti, alcuni sono nella cappella, scusa, nella scala santa del santuario della corona ci sono dei miei quadri fissati là. E questa esperienza di dieci anni non pochi in questo santuario, forse il più conosciuto a Verona? Beh, è il santuario più importante della diocesi alla quale arrivano da tutto il mondo. Io ho fatto al santuario un'esperienza molto più ricca da un punto di vista di rapporti con le persone che non nelle parrocchie, nelle parrocchie si ha quelle famiglie che sono lì residenti in parrocchia. Lassù venivano, ripeto, da tutto il mondo, ecco, da diocesi vicine a Verona, soprattutto Brescia, Mantua, Trento, le diocesi, ma anche da Milano, da Bergamo e anche dall'estero, moltissimi polacchi. Certe volte venivano tre, quattro gruppi di polacchi in un giorno e poi andavano a Roma o magari tornavano da Roma. Per dire polacchi, tedeschi, molti tedeschi anche, austriaci, svizzeri, qualche gruppo di svizzera, francesi pochi, pochi francesi. Venivano dei cori dalla Norvegia, cori norvegesi venivano a cantare al santuario. Quali sfide più grandi ha dovuto vivere anche in questa vita sacerdotale? Beh, certamente le sfide da un punto di vista anche della salute, perché non sono mai stato di ferro, anche se Don Martino mi dice tu sei inossidabile. Poi ultimamente, dopo che sono caduto su al santuario, svenuto sui gradini del tabernacolo, ho preso l'emorragia cerebrale, le vertebre cervicali danneggiate, doppia vista, il covid che mi hanno trovato. Due mesi di ospedale non li avevo mai fatti in vita mia. Ecco, quindi è stata un'esperienza che mi ha un po' anche... Sono calato dieci chili, poi li ho recuperati però, ecco, per dire... Per quanto riguarda la salute. Per quanto riguarda le persone, San Luca in centro città con un giro di poveri continuo, qualche volta mi ha impegnato anche a gestire questo rapporto con sta povera gente. Un messaggio finale, dopo così tanti anni di vita in sacerdozio, guardando comunque al domani sempre. Sono a Caprino ad aiutare come celebrante, confessore, vado nelle varie parrocchie, perché Caprino ha quattro parrocchie, Caprino, Pazzon, Lubiara e Pesina, quindi vado anche nelle parrocchie. I primi dieci anni ho fatto il curato e molto volentieri, anzi quasi quasi mi dispiaceva di finire quando mi è stata fatta un'altra proposta, spaziando da Vigasio fino alla sponda bresciana del lago e quindi un pochettino fuori dagli schemi. Poi dopo di quello il Vescovo mi aveva chiamato per una cosa che non mi aspettavo, era l'avvio del Centro Missionario Diocesano come una struttura che applicava le prime decisioni del Concilio Vaticano II, quindi una cosa imprevedibile, imprevista, che si doveva inventare. Io l'abbiamo inventata insieme, anzi l'ha inventata lui più che me, perché se quel giorno del 13 di dicembre del 71 io avessi potuto registrare quello che mi diceva, credo che una buona metà di quello sarebbe ancora da realizzare, per la visione che lui aveva della situazione della Chiesa in quel momento e anche dell'evangelizzazione, non solo dell'evangelizzazione all'estero, dell'evangelizzazione del nostro mondo nel quale stavamo vivendo in quel momento che lui diceva che era già in trasformazione e dopo noi l'abbiamo capito più tardi probabilmente. L'aspetto missionario che poi è diventato una caratteristica molto importante per la sua vita da sacerdote. Sì, ma ecco, più che l'aspetto missionario era il tentativo di capire il senso della parola della missione, cioè dello stile da imprimere nella Chiesa che era quello che l'Humegentio, Gaudium et Spes, eccetera, avevano detto, anzi ho buttato Antotius soprattutto, che era il documento sul quale ha lavorato molto Monsignor Carraro per la formazione dei presbiteri. E allora a quel momento io credo era tutto da inventare, no? Per quello che dicevo se io avessi potuto registrare una cosa che non sapevo cosa mi avrebbe detto quella mattina, quindi credo che molto di quello sarebbe ancora in fase di realizzazione. Poi le sue esperienze missionarie sono state importanti. Quello è stato il secondo aspetto, no? Perché noi fino allora pensavamo alla missione come a qualche cosa che è al di fuori. Mentre lui insisteva, ricordo che la mattina, nel dire guarda che la missione la dobbiamo creare qui. Creare era la parola che mi aveva un po' impressionato. Creare? Io non ho nessun titolo particolare, è una cosa che dobbiamo creare. Ma dice, ecco, e allora nella spiegazione in un certo momento mi dice, ma mi segui? Dico, sì, ma non ho mica capito tutto. Bravo! Dice, così lascerei spazio anche allo Spirito Santo. È stata la sua risposta, quella che mi ha buggerato poi. E quindi lei dove è stato poi a missione? Dopo, no, il centro missionario sono stati 15 anni di lavoro, no? Dopo di quello, vabbè una piccola parentesi in parrocchia a Cerea e poi dieci anni in Guinea-Bissau con Monsignor Ferrazetta. Che a mio modo di vedere, allargo un pochettino il discorso, ma non è distante dalla linea dei grandi missionari della chiesa veronese. Io si posso ricordare il Comboni, ma prima ancora il Mazza, prima ancora il Don Vinco e poi tutti quelli che sono seguiti, Bertoni e compagnia, il Ferrazetta non è fuori squadra. Credo che in ordine di tempo è l'ultimo, però è quello con il quale poi ho vissuto dieci anni, avendolo seguito anche prima e dopo dei dieci anni. Insomma, quindi per me davvero è una figura grandissima da mettere alla pari delle altre della chiesa missionaria di Verona. Il suo abbandono nella missione, nell'aspetto missionario sicuramente ha dato tanto alle persone e ha dato tanto anche a lei. Ha dato sì, io penso di sì, perché mi ha messo dentro alcune cose che forse c'erano in radice, che avevo recuperato durante gli studi della teologia, eccetera. Però finito gli studi della teologia e diventato prete, lì c'era subito il concilio che partiva, subito dopo, e lì ha cominciato a sconvolgere tante cose che avevo in testa, che avevo nel cuore. Per cui, per esempio, il capire che le relazioni sono l'ossigeno della vita, le relazioni in tutti i sensi, dove dai e ricevi, dove trasmetti, dove il cuore respira nei due sistemi, no? Ecco, quelle cose lì sono venute da sole. Nel momento in cui cominci a camminare in un modo un pochettino diverso, perché costretto dalla situazione nella quale ti trovi, a un certo momento scopri che ci sono dimensioni diverse, che ci sono anche orizzonti diversi, che ci sono stili diversi sui quali muoverci, perché l'obiettivo era quello da prete, quello di dire, il Vangelo va annunciato a tutti, quelli che ho vicino, quelli che sono lontano, devo trovare i modi adeguati. È bello adesso pensare, arrivando ad un punto, un anniversario così importante, riflettere su quello che è stato. Quali sono le principali riflessioni che sta facendo in questi giorni dentro di sé? Ma tante, quindi è difficile dire le principali. Ma una cosa che mi impressiona è il fatto che c'è chi ti dice, oh, 60 anni, ma io non lo so, sono passati in tre giorni per me. Cioè non saprei fare delle sezioni particolari, perché lo stile non è mai cambiato. Sono cambiati i posti dove sei stato richiesto di impegnarti. Non avevo mai pensato di fare qualche anno in Terra Santa, per esempio. È capitato anche questo. E lì c'è stata un'altra sottolineatura particolare nel mio modo di essere prete, nel mio modo di essere vicino alla gente con la quale lavorare, con la quale camminare insieme, con la quale crescere anche nella fede. Così non avrei più pensato, alla mia età, di dover fare ancora per qualche anno la vita pastorale nella parrocchia. Anzi, in sette parrocchie addirittura, nella zona della Lessinia, nelle Vestene, cosiddette, a Verona. Anche quello è stato imprevisto, imprevedibile. Però quando è capitato, non credo di aver, forse avrò fatto tanti guai per carità, ma non mi sono trovato a disagio, perché mi pareva di continuare quello che ho sempre vissuto, nel contatto con la gente, nel prendere la parola di Dio come punto di riferimento, prendere anche il senso di valorizzazione dei laici, delle persone che di solito hanno tante altre cose da fare, ma possono anche fare qualcosa per il Vangelo e con il Vangelo. Ecco, è venuto spontaneo. Un messaggio finale in chiusura? Quello che mi fa paura è il disinteresse che trovo adesso per tutto. Per le persone, ma anche per il modo di rapportarsi con le persone, per il modo di credere, per la poca fiducia reciproca che sta, per il disinteresse che sto vedendo nella nostra società, tra i giovani e gli adulti. È il disagio di adulti che sono venuti su con una forma di educazione che non si ritrovano più in questo cammino. Quanto è necessario recuperare Dio in noi per recuperare tutto questo? Certo, recuperare un senso di fede, di visione di vita ispirata da qualche cosa di importante per me. È Dio, è la sua parola e anche la tradizione che abbiamo alle spalle, che non è da buttare via, che però è da interpretare e da riportare in questo cammino che facciamo oggi con questa gente, con questa realtà, con questa storia. Grazie a tutti.